Molto sicuro. L'attacco indignò l'opinione pubblica internazionale. Ma le grandi potenze europee, Francia e Inghilterra, assistettero inerti sperando di poter evitare la guerra. L'Italia fascista, invece, circa un mese prima della Notte dei Cristalli, si era allineata alla politica razzista del Reich, approvando nel settembre del 1938 le infami leggi razziali che vietarono i matrimoni misti ed esclusero gli ebrei dalle professioni e dalle scuole.